puntata di polifemo l'occhio di abate di venerdì 4 dicembre alle ore 21 su viva la puglia channel canale 93 del digitale terrestre e replica domenica 6 dicembre alle ore 14 e 30 una puntata dedicata all'immigrazione è un tema scottante un tema caldo di questi giorni vogliamo affrontare il problema tutto tondo cercando innanzitutto di abbattere l'ignoranza il pregiudizio il razzismo l'intolleranza stupida che purtroppo alberga in parecchi con cittadini e con nazionali e comprendere le ragioni dell'immigrazione affrontare anche il rapporto che ci deve essere la necessità meglio di contemperare di coniugare le esigenze di sicurezza con la necessità con le esigenze di accoglienza insomma l'immigrazione è anche considerata sotto l'aspetto dell'economia con la creazione di una new economy insomma non vi dico altro altrimenti poi perdereste l'interesse a seguire la puntata con chi ci interfacceremo beh con ospiti a tema incominciando dal dottor carlo martello presidente di conf cooperative taranto con donnino borci direttore della caritas diocesana di taranto con la professoressa maria rosaria piccini docente a contratto di diritto e religioni nei paesi del mediterraneo del dipartimento ionico presso l'università degli studi di bari e ancora giandonato lo savio direttore del centro di accoglienza sprar e mohamed baldec che proviene dal gambia e ci racconterà la sua esperienza e allora non resta che metterci comodamente in poltrona canale 93 del digitale terrestre polifemo sia all'accoglienza no all'intolleranza no al razzismo buona visione